Le opportunità e i vantaggi dell'investire in microcapitaliane anche in questo momento a mio avviso ci sono. Prima di tutto le microcapitaliane quotate sono tutto sommato aziende eccellenti e quindi guardando al futuro, guardando a prospettive di medio e lungo termine credo che l'investitore possa trovare qui delle società che, ripeto ancora, a discapito del momento terribile, che è stato impegnativo, che stiamo vivendo possa veramente avere dei riscontri nel medio termine perché sono società che si sono date un'organizzazione, che puntano all'eccellenza, che si sono messe in discussione, che sono controllate, che hanno basato sulla trasparenza una parte importante del loro business futuro. Quindi diciamo che sicuramente le opportunità anche in questo momento le vedo. Lato invece aziende, ovviamente l'azienda quotata in questo momento sta vivendo un discapito dato essenzialmente dalla diminuzione generalizzata della valorizzazione, è un elemento sicuramente di sofferenza aziendale, però credo che anche le società quotate possano considerare la permanenza nel mercato come un elemento importante perché comunque il mercato rappresenta una certificazione di eccellenza e una potenzialità di risorse finanziarie e di risorse reputazionali nel medio termine molto rilevante.